Accogliamo l'occasione per spiegare esattamente come sono stati riorganizzati gli spazi della scuola per accogliere in sicurezza sia i nostri studenti sia il personale della scuola che è impegnato nelle operazioni d'esame. Cominciamo qui dall'ingresso. Abbiamo praticamente riorganizzato sia l'ingresso che le uscite prevedendo un ingresso dedicato per ciascuna commissione. Premetto che questa sede in via Fiamme Gialle accoglie quattro commissioni, quindi ognuna delle commissioni avrà un suo ingresso dedicato. Come si può vedere qui dal cartellone, l'ingresso principale sarà presidiato costantemente da un collaboratore scolastico che farà entrare e uscire i candidati con elenco nominativo alla mano di chi quel giorno è stato convocato per sostenere il colloquio. Tutti i cancelli saranno naturalmente tenuti chiusi per evitare assembramenti all'interno dell'area di pertinenza scolastica. Come si può vedere qui sul cartellone, dall'ingresso principale poi si diramano i vari percorsi per arrivare alle sedi delle commissioni che sono evidenziati con le lettere A, A1, B e B1. Qui siamo all'ingresso A che è stato segnalato con apposito cartellone. L'ingresso A è destinato alla prima commissione, poi salendo al piano successivo, dove è indicato con il secondo cartellone, c'è l'ingresso A1 destinato alla seconda commissione. Ogni commissione ha la sua entrata che è stata opportunamente segnalata. Questa è l'area destinata ad una sola commissione. Ogni commissione è composta di due classi, però lavoreranno separatamente. Prima i candidati di una classe, poi i candidati della seconda classe. Qui sono stati collocati i banchi per la riunione plenaria del 15 di giugno. In realtà solo il primo giorno i commissari si riuniscono tutti quanti insieme in quest'area. Dal secondo giorno in poi saranno nell'aula destinata agli esami. All'ingresso dell'aula abbiamo posizionato la piantana con gel igienizzante a fotocellula. Poiché tutti i commissari e tutto il personale che accede in quest'aula, compresi i candidati e gli accompagnatori, devono obbligatoriamente igienizzare le mani prima dell'ingresso. E questa è l'aula come organizzata per il colloquio. Questa è la posizione del candidato, dove abbiamo posto uno schermo in plexiglass per dare l'opportunità al candidato di poter abbassare la mascherina durante il colloquio. Avrà a sua disposizione tutti gli strumenti necessari, cioè la LIM, il PC e qualsiasi altro sussidio che gli sia necessario. I commissari sono praticamente seduti ad una distanza di due metri l'uno dall'altro e abbiamo segnalato tutte le distanze con appositi adesivi. Tra un candidato e l'altro i collaboratori scolastici provvederanno ad igienizzare e a disinfettare lo schermo in plexiglass, il banco del candidato, la sedia e tutti gli strumenti tecnologici che sono stati utilizzati. Quindi tra un candidato e l'altro ci saranno almeno 15 minuti di tempo per poter arieggiare l'ambiente e disinfettare adeguatamente tutte le suppellettili. Anche i servizi igienici sono stati adeguatamente organizzati. Possiamo entrare. Innanzitutto abbiamo esposto la cartellonistica su come lavarsi le mani con acqua e sapone, così come consigliato dal Ministero della Salute. e abbiamo collocato all'interno dei servizi igienici sia il contenitore con sapore neutro sia l'asciugatore elettrico per le mani. Nelle aule destinate ai colloqui e alla Commissione sono state naturalmente esposte tutte le raccomandazioni consigliate dal Ministero della Salute in modo che siano sempre ben visibili. Abbiamo qui nella zona centrale, possiamo renderci conto di quale sia la distanza tra una Commissione e un'altra. Quindi da quel lato abbiamo una Commissione, quindi una classe per volta. Da quest'altro lato un'altra Commissione, una classe per volta. Quindi c'è tutto lo spazio necessario per un adeguato distanziamento sociale. dall'ingresso dedicato ad ogni Commissione, che come possiamo vedere sono differenziati, i candidati poi avranno un unico percorso di uscita, che è questo che stiamo indicando a terra. Quindi dopo aver svolto il colloquio, il candidato e il suo accompagnatore, ricordiamo che quest'anno il candidato potrà avere un solo accompagnatore, dovranno seguire questo percorso per arrivare all'uscita. Naturalmente le porte saranno tenute tutte aperte, per evitare il contatto frequente con i maniglioni e anche per consentire un continuo arieggiare degli ambienti. Questo spazio è destinato, quest'area è destinata all'uscita. Quindi abbiamo separato in maniera netta l'ingresso dall'uscita, proprio per evitare interferenze o contatti tra chi entra e chi esce. Per concludere questo servizio vorrei lasciare un messaggio ai miei studenti e a tutti gli studenti che si stanno preparando per sostenere l'esame di Stato. Studiate ragazzi e cercate di fare un esame che sia dignitoso e soprattutto ricordate una cosa importante, guardare sempre ai vostri sogni, ai vostri progetti di vita, di non farvi mai distrarre da altro e di raggiungere i vostri obiettivi perché è importante nella vita riuscire a costruire il proprio progetto di vita. Credo sia la cosa più importante, quindi io auguro a tutti un forte in bocca al lupo e spero di rivedervi prima possibile, innanzitutto per darvi gli auguri con un abbraccio.